Ho disposto con apposita ordinanza per la giornata di oggi, giovedì 4 febbraio, la sospensione delle attività didattiche della Scuola Landolfi di Piazza della Repubblica per consentire le operazioni di sanificazioni. Così il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, tale decisione è venuta a seguito della comunicazione pervenutami dall'ASL di un caso di positività di un alunno, non residente ma frequentante la scuola primaria di Agropoli. E dunque a comunicarlo il primo cittadino, Adamo Coppola, nel consueto report di informazione nella sua pagina Facebook. Ricostruita come di consueto la catena dei contatti, alunni e insegnanti coinvolti sono stati posti in quarantena in attesa di tampone. Sono in totale 2 i casi di positività comunicati nella giornata di ieri, 3 le guarigioni, quindi il totale dei positivi attuali scende a 13, mentre i guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia sono 173.